Il Bando è aperto e scade il 25, quindi ci sono ancora 9 giorni per candidarsi al Servizio Civile Regionale. In particolare c'è un progetto che si chiama 2020 Nuove Generazioni a Bando e che sul territorio provinciale ha 12 posti. Si tratta di una coprogettazione fra tre enti, che sono Associazione Papa Giovanni XXIII, Arci Servizio Civile e Mille Piedi. E si realizza su sedi differenti e quindi anche in base alla sede in cui si sceglie poi di svolgere il servizio, le attività che si fanno cambiano e cambiano anche notevolmente. Però diciamo che il tema centrale del progetto è l'intercultura e l'accoglienza di persone con fragilità. Questo è un pochettino il filo che accomuna tutte le sedi di progetto. Quest'anno, questo è il primo bando, diciamo, post-Covid-19, in che modo la pandemia e tutte le misure che sono intervenute ha influenzato un po' questo bando e il servizio civile in questo periodo? Ovviamente siamo stati influenzati tutti e tanto, il servizio civile in questo momento in realtà non si è mai fermato, se non per alcuni progetti che erano in luoghi in cui oggettivamente era impossibile svolgere attività, ma i ragazzi si sono impegnati anche collaborando con le associazioni del territorio che si occupavano dell'emergenza, quindi i ragazzi non si sono mai fermati proprio, loro sì. Ha influito quindi molto perché ovviamente le attività in cui i ragazzi erano coinvolti sono quasi tutte sulla relazione e quindi molte sono destinate a bambini, soggetti oppure a persone anziane. Certo, per cui è difficile mantenere un contatto. Questo è il primo bando post-covid e quindi fra l'altro questo porta che la candidatura non può essere presentata di persona ma va inviata necessariamente per posta elettronica. Infatti ti volevo chiedere, entrando un pochino nel merito, tecnicamente, cioè praticamente, come si fa domanda? Come si partecipa a questo bando? L'adesione è in realtà molto semplice, c'è un modulo che trovate o sui siti degli enti che ho nominato prima o sul sito del Copresc dove trovate tutte le indicazioni, anche il bando, il testo del bando e dell'avviso. Il sito è www.copresc.rimini.it e dove trovate anche i miei contatti se volete approfondire qualche informazione. Il modulo si compila direttamente a PC e si può inviare per posta elettronica, all'ente capofila del progetto. L'altra unica possibilità è spedire per posta la domanda, però deve essere necessariamente con raccomandata con ricevuta di ritorno e deve arrivare entro il 25. Quindi consigliamo la modalità. A questo punto è meglio l'altra modalità, c'è più sicurezza. C'è più sicurezza. Approfitto per ricordare che sulla nostra pagina, su News Rimini, sulla pagina di Rimini Sociale, oltre a raccontare un po' il bando, ci sono anche tutte le indicazioni con i link appunto per fare domanda. Chiara, tu non sei venuta sola però questa mattina? Non sono venuta sola. Chi c'è con te? Che hai portato? Francesca e Veronica, due ragazze che stanno facendo il servizio civile ora per il progetto che è a bando e che ripartirà una cosa sui tempi, il progetto a bando sarà avviato il primo settembre, quindi si partecipa ora alla candidatura e si comincia il primo settembre. Quanto dura adesso il servizio civile? Quello regionale sono 11 mesi, l'impegno è di 25 ore settimanali su 5 giorni. Ok, quindi questa è un po' la gestione. Esatto. Le sedi, come dicevo, sono molte, sono l'associazione Arcobaleno con la scuola di italiano, il CEIS, quindi l'asilo italo-svizzero, Casa Pomposa, Casa Macanno, un GET, un gruppo educativo territoriale, Casa Caribu e la Capanna di Betlemme. Qui con noi abbiamo Francesca e Veronica che stanno svolgendo il servizio rispettivamente al CEIS e a Casa Pomposa. E allora sentiamo, cominciamo da Francesca al CEIS, come sta andando il tuo servizio civile, come è stato, come è stato l'impatto, raccontaci un po'. Allora io ho iniziato a settembre dell'anno scorso in una quarta, in una scuola elementare al CEIS appunto e lavoravo essenzialmente come, tra virgolette, maestra di sostegno, quindi davo una mano un po' a quelli che erano i bambini con disabilità o comunque autistici, comunque con problematiche differenti e inizialmente ero un po' lì per visionare la situazione, quindi guardavo e basta. Poi mi hanno fatto fare delle cose appunto con questi bambini che erano comunque in difficoltà, ho imparato un po' a gestire le situazioni problematiche che si potevano presentare, ho imparato un po' a vedere come lavoravano questi bambini con problematiche, quindi tutti i loro giochi, tutti i loro compiti e ho anche collaborato a scrivere i compiti, ho collaborato a scrivere diversi esercizi e quindi ho dato una mano in questo modo. Poi ovviamente ho fatto anche un po' di gruppo con gli altri bambini della quarta, eravamo in un gruppo, i bambini erano 46, quindi una classe molto ampia e io stessa ho fatto l'elementare al CEIS, quindi ho lavorato anche con la mia vecchia maestra. Sei un po' tornata a casa. Esatto, infatti quella è un po' a casa mia e mi sono trovata molto bene perché appunto a parte che questi bambini erano molto bravi e molto carini, poi il CEIS è sempre un bellissimo posto dove lavorare e poi ho imparato molte cose, ho imparato a collaborare, ho imparato a lavorare di gruppo, ho imparato a comunicare anche meglio, ho imparato come si gestiscono queste situazioni problematiche che non tutti sanno cosa vuol dire esserci dentro, cosa vuol dire avere problemi di questo tipo. Poi ovviamente è arrivato il Covid, si è dovuto smettere tutto e abbiamo dovuto ricominciare a fine giugno e adesso sto lavorando invece con il centro estivo, questa volta però non con l'elementare ma con la scuola materna, quindi lavoro con i bambini dai 3 ai 5 anni. Siamo divisi in gruppi, in particolare il mio gruppo ha 5 bambini e io lavoro con un'altra maestra e niente, facciamo ogni giorno un'attività diversa, quale cucina o comunque giochi con l'acqua, li portiamo al mare, li portiamo a fare un giro in centro e anche qui si imparano molte cose, si impara a stare con i bambini, si impara a farli giocare, ci si diverte anche noi stessi perché comunque con i bambini ci si diverte un po' sempre e si imparano anche sempre delle cose dai bambini, secondo me, si impara a stare di più con gli altri, ad avere più pazienza, insomma è un'esperienza molto formativa. Quando tu hai fatto domanda per servizio civile, hai proprio questo servizio, avevi in mente altro? No, io volevo proprio fare questo proprio perché appunto facevo parte della scuola, facevo parte del CEIS quindi ho detto dai riviviamo un po' l'esperienza, vediamo un po' cosa si prova a ritornare al CEIS e devo dire che questo riscontro è stato molto positivo. Quindi sei contenta perché poi stai ancora andando avanti. Chiara scusa, approfitto per chiederti un'altra cosa che ha accennato Francesca. I mesi di sospensione saranno recuperati o comunque sono 11 mesi, quindi lei ha cominciato a settembre e finisce ad agosto? Il progetto è stato in qualche modo congelato, quindi nel momento in cui è ripartito è stato prolungato per mesi pari a quelli di sospensione, infatti loro avrebbero dovuto concludere il servizio il primo agosto e invece finiranno a ottobre. Ok, Veronica tocca a te. Raccontaci un po' la tua esperienza. Allora io faccio servizio civile a Casa Pomposa che è un centro giovani e appunto è uno spazio principalmente per dare un punto di ritrovo magari a ragazzi emarginati o magari ragazzi con problematiche, oltre ad essere aperto ovviamente a tutti. Lì si tengono dei corsi incentrati comunque sull'arte, ci sono anche delle sale prove ed è appunto uno spazio comunque incentrato appunto sul... Tu in particolare lì di cosa ti occupi? Allora principalmente dell'interazione appunto con i ragazzi, è tutto basato sul fare attività, basato comunque sul comunicare, appunto non far sentire soli magari persone emarginate. E ti piace quello che fai, come lo fai? Allora mi piace perché io sto studiando per educatore sociale perciò è stato per me anche un modo di affacciarmi comunque al mondo del lavoro oltre a servirmi come tirocinio perciò comunque è stato un modo per capire anche quello che sto studiando nel concreto diciamo perciò penso che il servizio civile serva molto anche a questo potersi affacciare su degli spazi lavorativi più concretamente capito? Avere una prima esperienza del mondo del lavoro quindi comunque sei contenta di come sta andando? Sì mi è dispiaciuto un bel po' per il coronavirus Però si recupera adesso Poi io vorrei fare anche il nazionale il servizio civile nazionale Così anche Continuare, vuoi continuare la carriera del servizio civile? Rompere le balle alla chiara Chiara scusa A proposito di quello che ha detto adesso Veronica abbiamo parlato questa mattina anche di un concorso anche della difficoltà di trovare lavoro Servizio civile in questo aiuta? Cioè è comunque un modo per entrare in contatto con associazioni o con mondi in cui se no difficilmente si riuscirebbe a mettere piede? Assolutamente sì è un modo intanto per i ragazzi per mettersi in gioco perché permette di vedere le modalità come funziona il mondo del lavoro ma con un sistema che comunque è più tutelato di quello lavorativo e quindi permette di mettersi in gioco con più facilità e poi di farsi conoscere e di prendere contatti le associazioni e le istituzioni del territorio lavorano molto in rete incontriamo gli altri enti durante la formazione gli altri soggetti un pochino sia del terzo settore sia del pubblico e quindi secondo me è una buona chance anche per questo assolutamente anche per questo assolutamente